Bella ragazzi, oggi video leggermente diverso dal solito perché faremo una sfida che stavolta scelgo io Se perdo su helpy wheels il video finisce So che già altri youtuber hanno fatto questa sfida ragazzi Ma io voglio portarla per questo motivo che vedete ora a schermo Come potete vedere c'è un messaggio di whatsapp risalente al 14 di dicembre Che io avevo scritto su un gruppo in cui sto praticamente solo io Infatti utilizzo questo gruppo whatsapp per scrivere tutte le idee che mi vengono in mente per dei video durante la giornata E questo messaggio risale al 14 dicembre Quindi molto prima che tanti altri youtuber portessero il video E quindi niente io vi lascio il video Ok ragazzi quindi stiamo veramente provando finalmente helpy wheels Ho visto un po' questi dovrebbero essere i livelli tipo non lo so verificati Non so quale mettere Speed bridge proviamo questo Ho visto già i comandi mi sono un po' interessato Esatto come potete vedere una grande maestria dei comandi Andiamo avanti credo che non abbiamo tante alternative sinceramente Ok Sembra tranquillo per ora dovrei avere problemi Vediamo questo che fa Ok Non credo che fosse prevista una cosa del genere Però il mio personaggio è ancora vivo C'ha solo un po' di spina dorsale furi Però è tutto nella norma dai Andiamo Come se non fosse successo nulla ragazzi No fra fra Non farei stupidaggini Ok 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 Ce l'abbiamo ce l'abbiamo ragazzi Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo tutto a posto No allora Mi servono solo le gambe tanto Ok A posto Credo che dobbiamo cadere qui Esatto perché stava al giro che tutto faceva fare Ok Calmi Sta funzionando Sta stranamente Sta funzionando Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti